Non verrà mai più nominato Cattelan, su questo ci giuro, io lo cancello assolutamente dal mio repertorio, mi vergogno di tutto quello che ho detto su di lui, lui qui ha fatto una paglia chat. Raccontare in tre minuti questo artista è molto difficile. Maurizio Cattelan è praticamente in tutti i libri di storia dell'arte. Nasce a Padova il 21 settembre 1960. I suoi studi centrano veramente poco con l'arte, è un'autodidatta e in seguito ad una brevissima carriera da designer, l'artista si afferma come dissacratore delle convenzioni di ogni regola del mondo dell'arte contemporanea, parola di Francesco Bonami. Non me ne voglia il signor Cattelan, ma bisogna premettere che è un genio del marketing e dell'autopromozione, oltre che visionario e venditore di ottimo livello. Come ama raccontare, esce di casa a 18 anni e per diverso tempo si mantiene da solo lavorando di giorno e frequentando le scuole serali, ma piano piano prende coscienza di che strada seguire e nel 1984 si licenzia dall'obitorio dove lavorava e si dedica completamente all'arte e al design. Espone nelle prime mosse tra Faenza, Forlì e Bologna. Fa avanti e indietro Forlì Milano, perché gli oggetti che crea gli danno da vivere. Li vende ed entra in un buon giro di conoscenze. Presenta questi oggetti a tutte le redazioni dei giornali di settore e vengono pubblicate costantemente. Collabora anche con l'azienda di design Dilmos, ma Maurizio si stufa e decide di cambiare binario. Attraverso le sue installazioni, sculture, azioni e performance si prende gioco del mondo dell'arte e dei suoi paradossi. Critica le politiche, le gerarchie sociali, gli interessi economici che dominano la vita contemporanea. Un esempio è Stadium del 1991, un lungo tavolo da calcetto balilla dove si fronteggiano due squadre, una formata da 11 uomini bianchi e italiani e l'altra da 11 uomini di colore, che indossano la divisa con un finto sponsor dal nome Raus, lo slogan con cui i nazisti appellavano i prigionieri politici o razziali per istigarne la cacciata. È un lavoro politicamente scorretto e un progetto tinto da uno spirito provocatorio. Ma il 1999 è l'anno della consacrazione vera e propria, con l'opera La Nona Ora, che raffigura il Papa Giovanni Paolo II morente a terra, colpito da un meteorite. L'immagine è inutile dire che fa il giro del mondo. Finisce su tutti i giornali con la domanda se quello o una presa in giro. Espone a diverse biennali di Venezia i numerosi musei e le sue opere entrano a fare parte delle più prestigiose collezioni private e pubbliche. A Milano, nel 2010, viene installata a Piazza Affari l'opera dal titolo Love, acronimo di Libertà, Odio, Vendetta, Eternità. Una mano intenta nel saluto fascista, ma con tutte le dita mozzate, come se rose dal tempo, eccetto il dito medio. Altra grande attenzione mediatica. Insomma, abbiamo parlato del fenomeno italiano più importante degli ultimi 50 anni. L'opera intitolata Him è stata battuta all'asta a 17 milioni di dollari, da Christie's a New York l'8 maggio 2016. È il record di sempre dell'artista. Questo artista, dal nome Maurizio, o lo ami o lo odi, non ci sono via di me. Alla prossima puntata, con Leroy e Art Burger. Grazie. 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 Grazie.